E ancora una volta ciao ragazzi e bentornati nel mio fantastico video Oggi siamo al ritorno da San Benigno E raga vi faccio vedere pure la strada Questa è la strada per tornare da San Benigno Perché il ritorno è raga Che posso dire? Sono con i miei amici E siamo pure il Soul Bullman Siamo al Soul Bullman e Che posso dire? Però guardate raga Qui Non mi stanno crescendo i baffi Vuol dire che mi stanno crescendo Però raga sto registrando con queste cuffie Da oggi Volevo dire da un po' Che registro con queste E così mi sentite meglio E raga che altro posso dire? Ehm Raga se volete ancora che faccio video su Gunsoft Boom Li faccio Se no lascio perdere Però raga Grazie del sostegno Dal Ehm Pollice in su Un bel commento Col che iscrizione Ci vediamo al prossimo video Dammi le stendini Out Ottok Ottok